Ok, siamo pronti! Ovviamente erano cento giorni che non pioveva, quando arriva Kassix... Ciao! Semmaforo verde! Si parte! Facciamo passare... Ci inseriamo, prima variante, molto tranqui... Si è già girato qualcuno... Facciamo del nostro peggio... Le bombe fanno abbastanza schifo, come prevedevo... I freni però si comportano abbastanza bene... Un carrello a turbo... Lascia un'ottima frenata... Le bombe fanno veramente schifo... Le bombe fanno... Le bombe fanno abbastanza schifo... 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 C'è... Purtroppo Chiaia... Purtroppo c'è Chiaia... Sulla pista... Maledizione! Questi inserimenti... La via era rossa, purtroppo temporalmente i giochi sono finiti fino a che la pista non viene pulita, lo sapevo, non poteva cominciare meglio, dopo la pioggia ci mancava pur solo che questo, alla fine siamo rimasti nella nostra posizione dietro il Porsche e come immaginavo il grip è una vera schiftezza. Siamo sulla griglia di partenza Grazie a tutti Cominciamo a cercare di fare la curva Il motore spinge bene che si comporta bene Alle nostre spalle un release purtroppo si è girata Un'è via Un'è via a un cazzo Frenata non è male, passata, va bene sul bagnante, non riesco a andare un cazzo, questo è come di merda, provo a frenare, in curva, lo stringe, lo fettinare appena il gatto, in uscita per avere un grigio di aderenza. Grazie.